L'ultima goccia I demoni hanno preso di mira un cantiere di Lady Fisk Potrebbe essere la mia occasione per eliminarli una volta per tutte Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man Con voi Vincent Abbiamo avuto un accenno di quello che faremo oggi E... boh, vediamo Aia Jeff, ci sono Cosa vedi? Trovateli, devono morire A quanto pare i demoni hanno invaso il territorio di Fisk Ci pensi tu? Tranquillo Pare ce l'abbiano proprio con Fisk Facciamo in modo stealth Almeno, se riusciamo Vieni qui Spero non mi veda nessuno Non dovrebbero Però Sapete come va la situazione Tante volte Vieni qui Tu Tutti appesi Come dei salami Ok Quello è andato proprio alla grande Vieni qui Ho fatto così senza pensarci Questa mossa l'ho fatta Però Fortunatamente non mi hanno visto nessuno Non dovrebbe esserci nessun altro E infatti Vi prego lasciateci andare Il territorio di Fisk è nostro ora Io non credo Vostro proprio una parola grossa Oh A quell'altro Ma vabbè Hai usciato un cacchio Ok Forse non sarebbe l'arma adatta Utilizziamo questo Oh 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 cavolo Oh Ok Ecco fatto Cioè dovrei salvare i tuoi demoni Devo salvare cattivi da altri cattivi La vita è piena di sorprese Olè Wow Aia Tocco Fai male E anche abbastanza Madonna Ti faccio vedere io Adesso mi hanno notato Beh Devo dire che Appunto Che hanno proprio notato bene Ok Dove dovevo andare Dove devo andare Eh che è Non ci va nessuno Già so io dove dovreste andare Ma vabbè Meglio se non ve lo dico Ha 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 Olè Che ne dite di questo Oh cavolo Devo dire che gli ologrammi stanno funzionando alla grande Aia 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 E' acqua passata Ah Oh oh Ah ah Aia Non ci faremo mica battere da questo Ok Restate qui e aspettate la polizia Meglio passare da fuori per cercare gli uomini di fisso No Ah ah Oh Oh Bom bom Bè Uh Olè Alcun altro Vieni qui Disgraziato Delinquente Farà butto Ok Ok Ah Wow No Mi era uscito benissimo Oh Ok Oh 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 Eh Questo Questa sarà dura Hey Bestioni Wow 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 Ma che sta facendo Sta bevendo Madonna No Ecco qua Quindi hai rispettato a me Grazie, molto gentile Oh Vai Ok Voglio aggrapparmi a quella gru È abbastanza difficile Ok Stai bene Fisca I tuoi uomini sono salvi È il tuo turno Chi comanda i demoni Forse è già lì O forse no Controlla sul tetto Mi mancavano le frasi crimpiche di Fisca Ehi Questi dove pensano di andare Ecco Ciò che hanno fatto L'hanno fatto Ma Se ne stanno scappando Ci rivediamo Aia Questo provocherà Un bel po' di casino Andiamo No 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 Ok E ora l'altro Oh la la Ok Fatto Oh Ma sono pazzi Questi Ci segnalano Un elicottero Con una palla Da demolizione Beh più o meno Tranquilla Yuri Fidati di me No Dov'ai Ok Ma non M'hanno preso Ma quella è stata Solo fortuna Quell'elicottero Sta distruggendo la città Lo so Ok Devi abbatterlo subito Lo so Non potresti accelerare i tempi Ci sto provando E' Navarula Madonna Quanto è difficile Sto elicottero Ora da raggiungere E' la mia occasione Ok Madonna Santa Cioè Cosa è più difficile Di questo Ecco Sono sicuro Che me ne pentirò Quella peppa Olè E' il volo per Newark E' questo Il suo piano Rimpiazzare Fisk Fisk Un motore è andato Ora è il secondo Mi spiace signore Ma deve accostare l'elicottero Devo bloccare l'altro motore Oh Ma è proprio rotto Ok Mi serve un piano E mi serve alla svelta Mi sa che il piano è questo Dai Puoi farcela Puoi farcela Puoi farcela Puoi farcela Queste maschere sono stupende Dove le prendete? Oh Grazie Le trovo su internet Ops E' Yuri Ho preso i cattivoni Ma Ma cosa? Ti conviene portare una scala Ehi mais Ehi fanboy Accidenti E' tardi Vieni? No Vado al municipio Per la cerimonia di papà Ah giusto Fagli i miei complimenti MJ La cerimonia è già iniziata Stanno allestendo il palco Tu dove sei? Contrattempo al lavoro Arrivo Ok ragazzi Allora Questa missione è andata Proprio alla grande Mi è piaciuta tantissimo Veramente Il casino poi Vabbè Comunque Spero che questa puntata Vi sia piaciuta Se questo è stato Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto No 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 Ok Bella ragazzi Aspettate Lì C'è qualcuno Che vuole fare Baldoria Ah Aio Ok Non ci si stanca mai Giusto Spiderman Wow Ok Tutto liscio Come l'odio Aspettate Di tutto rispetto Per dei criminali Tu dove vai Ok Niente più adrenalinico Di un inseguimento Eh I danni Purtroppo Me li causano Sempre Bella ragazzi Otro Attrofi Qu parts Troppo Con